Musica Fatto un bel giro, fatto un bel passaparola perché abbiamo un parterre eccezionale qualcuno diceva negli anni 80 eccezionale veramente, ma veramente veramente eccezionale presento subito il mio collega, nonché corrispondente di uno dei più grandi quotidiani italiani il messaggero Gabriele Lepri, ciao Gabriele Ciao Fabrizio, un surrotato di nostri telespettori, un parterre eccezione questa sera, chissà chi saranno Allora andiamo subito da un grande musicista, perché è un grande musicista che poi strada facendo in questa trasmissione andremo a sentire la sua canzone, il suo video veramente da pelle d'occhio e l'ho voluto qua a mezz'ora di Genoa proprio perché, ho insistito tanto, proprio perché è veramente eccezionale Luca Canfora, ciao Luca Ciao, ciao a tutti, ciao a casa, ciao a tutti voi E a tutti i genuali, poi più tardi vedremo sicuramente, saremo a sentire il tuo pezzo Poi abbiamo un grandissimo, ha percorso tutti i giorni del G8 E grande amico di Vasco Rossi, è grande amico di Morgan, è grande amico di tutta l'Italia palonara La politica sociale di tutto quanto, signore e signori ladies and gentlemen, un applauso perché lui è Don Gallo Grande Don, grande 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 Ti ringrazio perché parlare di Genoa per me mi si gonfia al cuore Senti Luca tanto, facciamo un po' di ping pong con Don Gallo e con te Hai fatto un capolavoro perché tanto se mi può mandare gentilmente Simone dalla regia un po' di immagini mentre tu parli Tu hai fatto un video bellissimo dove io ho veramente la pelle d'oca dedicato al Genoa Sì Ecco lo vedete, tanto la tua musica sta andando e il tuo video Diciamo che il Genoa è quello attorno a cui tutto ruota Quindi la canzone parla del Genoa ma parla anche molto della vita intorno al Genoa E quindi parla di ricordi, parla di padre, parla di madre, parla di amici Amici che non ci sono più, amici che ci sono ancora, amici che gioiscono, amici che soffrono C'è un po' tutto Ho cercato di mettere un po' tutto È spettacolare, io ti dico io amo la musica come tanti due ma è proprio, era da Sanremo Tu sei anche andato a Sanremo, hai fatto le... Ho fatto qualche selezione qualche anno fa Non t'hanno preso? Sono arrivato abbastanza vicino poi in qualche modo non... forse non ero al tempo abbastanza bravo Prego Don La prossima volta lo raccomando io Bravo Don, perché ci sono, esistono sempre le raccomandazioni purtroppo Bisogna dirlo Quella di Don Gallo è pesante Secondo me è interessante, ne parliamo Quella di Don Gallo è pesante Senti, tu hai giocato anche nel Genoa, nella primavera? Io ho giocato nel Genoa, fino alla Berretti Ah, fino alla Berretti? Dai Pulcini fino alla Berretti Su il tuo ruolo giocavi? Col 2, come ho messo nel video, il 2 e il 2, Gorin era il mio mito infantile Gol te ne è mai capitato di farlo? Sì, ne ho fatti anche due in un derby degli allievi da terzino destro Ricordiamolo Fabricio, io ho 8 anni che vado da Osta tutti gli anni all'anniversario della morte di Fabricio Gorin Invitato dalla vedova, dal figlio carissimo Quindi pensa chi era per me Fabrizio Io ho una foto con Fabrizio da piccolo Tra l'altro in questi giorni, tra le tante persone che mi hanno contattato C'è il figlio di Fabrizio Che mi ha fatto veramente molto piacere sentire, mi ha ringraziato Vedi, vedi Qua ci hai messo un po' tutto di coreografie Qua vediamo un cuore grande così, vediamo la gradinata C'è il 2005, che noi ci ricordiamo benissimo C'è il dopo 2005, c'è Marco Rossi C'è Marco Rossi, senti già tantissimi messaggi C'è Franco Rotella, un bacio a Franco Rotella E fare un applauso a Franco perché abbiamo diviso tanto qui a Telenor con il grande Franco E guarda, ho la pelle d'oca, è veramente un grande Non vorrei mettere troppa malinconia agli amici che sono a casa Ma io dico sempre anche Don, che ci dimentichiamo un po' troppo Delle persone che non ci sono più e di tutto quello che sono stati nella nostra vita Bisogna ricordarlo anche il professore, Scoglio Che era un mio caro amico Anche lui nel video ci ha fatto bene Allora facciamo una cosa, tantissimi SMS, veramente tantissimi Andiamo un attimo in pubblicità Stamattina nel negozio, se grande vogliamo Luca Canfora e la sua Genoa come ino Prima della partita, Francesco Valdivara Stupendo video, bellissima canzone Ma dove lo acquisto? È quello che ti dicevo prima, com'è che siamo messi? Per ora a casa mia Finché non si fa avanti qualcuno che mi aiuti a duplicarlo A produrlo e a farne un po' di copie Però adesso gli amici mi stanno contattando personalmente Io li do personalmente Guarda qua dicono Sono amico di Luca Canfora, me ne vanto e me ne stravanto Grande uomo, dentro e fuori, canzone stupenda, meravigliosa Fabrizio del Basso Piemonte, ciao, forza Genua Marco È tuo amico anche Piero Perù? È tuo amico? Grandissimo Piero, proprio affezionatissimo, proprio tanto, tanto, tanto Ma direi che mettere i cantanti, non so, uno ancora, ci voglio mettere tutti Io ho avuto una fortuna, mi vengono a cercarmi, abbraccio Mettici per esempio Vasco, l'hai detto prima Mettici, non so, Manuciao per esempio Manuciao, ah Manuciao, il quale posso dire che l'ho quasi convinto a diventare genuano Senti poi Gallo, hai fatto il patto con il diavolo Non invecchi mai un altro telespettatore Poi tanti di nuovo per Luca Luca, vogliamo sapere dove si acquista il tuo disco Come si fa? Si può scaricare su internet? Poi, oltre ad essere un ottimo musicista Il mio più caro amico, questa volta ha fatto centro Ti voglio bene Luca, dice alla Barbara Poi, Cinzia, dove posso scaricare la... Intanto se possiamo ancora mandarlo Mentre parliamo un po' di video, di musica del nostro Luca Canfora E dove lo posso... Allora da Youtube si può scaricare liberamente Comunque, per chi lo vuole mi può contattare Che lo regalo tranquillamente agli amici Addirittura, non dire così perché se no domani ti ritrovi 500 telefonate Come possono? C'è via Facebook Via Facebook Allora, Luca Canfora, visto che c'è il mondo di mezz'ora di Genova Ecco, con il mondo Facebook, no? Allora, Lino, cosa si può... Semplicissimo, avere l'iscrizione a Facebook Digitare in cima dove c'è la lista ricerche amici Luca Canfora In un attimo poi lui potrà successivamente confermare l'amicizia Quindi si potrà dialogare con te liberamente Certo, certo Certo, c'è una domanda anche per te, eh Posso dirti... Grande, grande Luca La tua musica questa volta hai fatto bingo Anche da You... Da You... Ma non si capisce, scusate Sarei Youtube Anche da You... Anche da You... Poi, Gabri, sei bellissimo Francesca del Cep E poi, Don Gallo, sei veramente un figo Romina Ha detto che sei un figo Quante fidanzate che lo sai Io ho tanto anni e mezzo Allora, facciamo una cosa No, dobbiamo andare in pubblicità di nuovo Andiamo in pubblicità E poi facciamo l'ultimo blocco di 8 minuti A ruota libera con Don Gallo e Luca Canfora State con noi Tantissimi SMS Grande parterre abbiamo stasera Grande parterre Guarda, qui dovreste leggere tutti Luca, cosa fai stasera? Sei bellissimo Baci Nonna Maria Magari potrò trovarmi Se mia moglie è d'accordo Una mezz'oretta da Nonna Maria Da Nonna Maria si può anche fare Magari ci fa anche qualcosa di buono L'annata dell'anno scorso è troppo grande Tre derby di seguito vinti Direi che ormai le gioie sono immense C'è un altro messaggio per lei Don Gallo C'è un altro messaggio per lei Don Gallo Tira, grande lui Ero sicuro che il tuo video avrebbe fatto successo Colpisce nel segno Gianni Selex In una canzone tutta la nostra storia Tutti noi genuali di ieri Oggi e domani Sei grande Luca, Laura e Gabriele Don Gallo sei la persona più bella di Genova Vicino agli ultimi e quindi uno dei primi Forza Genua Dichiararmi sponsor stasera ufficiale Dell'inno di Luca Ecco divento lo sponsor ufficiale Vedrai che facciamo strada Luca meno male che sei genuano Almeno possiamo vantare di avere dei tifosi Che a differenza degli ospiti sono veramente innamorati Luca Canfora con il tuo cd Grazie Bravo, grandissimo Mi scuso ancora con tutti i telespettatori Grazie Don Grazie Don Faccio una piccola profezia Io non so se è del 2011 Ma entro il 2012 Prendiamo il decimo scudetto Ma evviva Che Dio lo volesse Ciao Arrivederci È stato offerto da Gruppo Micerium Via Marconi 83 Avegno